Per questioni di lavoro, quello serio, il nostro amico youtubers lombardo, folle e creativo Bumbu Maria, si è dovuto trasferire in una città molto distante da noi. Ci manca davvero tanto, ma sai, ci sono sempre gli sputtanatori. E con il mio amico Loris, che è molto bravo a interpretare lo sputtanatore, abbiamo pensato di fare uno scherzo per guadagnarci un bell'insulto dal mitico Bumbu Maria. Pronto? Mi dovresti sentire adesso. Ciao Loris. Allora, chi convini? Niente, sono qui, c'è un mio amico che è venuto qua insieme perché stiamo facendo la birra. C'è un po' in montagna. Ah, state bevendo birra? No, la stiamo facendo. Stiamo bollendo il pezzolone, poi mettiamo il malto. Intanto stiamo facendo merenda, guardando la sede, un po' che stiamo dando. Micchia, che bella serata. Eh beh, sì. E niente, mi sono tra virgolette trasferito qua. Sono qui a casa in provincia di Lecco, in montagna. Intanto, niente, cerco lavoro da qui, mando il mio curriculum. Faccio quello che stavo facendo prima, praticamente, però finito a pagare l'affitto. Giustamente, l'italiano medio funziona così, no? Eh, cosa vuoi fare? Eh, l'Italia. Ascolta, l'altro giorno... Eh no, la mamma e il papà cosa? Sono qui da parmire. Oh, l'altro giorno ho visto l'angelo e mi fa Micchia, ma dove è finito il Bubu Maria? Eh, lei ha detto, no, Bubu Maria è andato via. Ma così senza dirgli un cazzo fa? Eh, non so, non mi sento così. Ma come senza dirgli un cazzo? Gli ho detto che andavo via. Oh, mi ha detto così, che ci è rimasto male, che cazzo ne so. L'angelo Florio? Sì, l'angelo Florio. L'ho visto l'altra sera, sono stato su Alla. Ma se sono andato alla Rocchetta a fare il karaoke, l'ho salutato e tutto, gli ho detto che andavo via, che collaboravamo da distanza, che non vivi e mi rastronzati. Oh, così mi ha detto. Mi ha detto, Micchia, ma sai che è proprio un brutto stronzo? Ma come? Mi ha detto, ma scusa fa, è partito. Sì, ha detto che ci sentivamo, però poi... Vabbè. Non richiamerò. Io gli ho detto che andavo via. Che cazzo mio... Poi saranno cazzi miei, scusi. Che cazzo vuole. Sì, ma comunque, guarda, è una persona comunque... Perché anche con me l'altro giorno è venuto là. Ciao, Angelo. Eh, ciao, ciao. Sì, ma ha cagato proprio poco. Era lì che cagava alle donne, capito? Lui proprio... Sì, sì. Guarda, non lo so, guarda, pensavo di conoscerlo meglio, ma anche in radio ci ha detto, ascolta, Angelo, ci vediamo lì la sera. Guarda, ho altra gente, c'è la monicuccia, c'è questo, c'è quell'altro. Io sinceramente non ne ho tempo. Guarda, ti richiamerò. Cioè, è proprio staccato, freddo. Comunque, a un certo punto mi fa, guarda, io pensavo che Alberto fa, sinceramente, me lo aspettava in maniera diversa. È venuto a quella sera in radio, ok? È presentato il suo film, ci siamo divertiti, è stata una bella puntata. però, al fine fa, guarda, ti dico la verità, che se ne sei andato così, che non lo abbia salutato, sinceramente non me ne frega un caso. Ma non è vero che non ho salutato, sono andato una serata sua apposta per salutarlo. Oh, mi ha detto, non è vero niente. Allora dice palle. Dice palle. Oh no. Ah, ma dice palle. Non è vero che sono andato a fare troppo. Oh, ma quando è che lo dici che sei uno stronzo? Eh no, non lo dico che sei uno stronzo. Guarda, guarda. Ah, che bubù. Ma lui è, non dico. Oh, abbiamo provato, abbiamo provato in tutti i modi, no? Per, perché lui ti diceva che io lo scultano, per dirvi, ah, ma lui è uno stronzo. Minchia niente, proprio neanche una porra laccia, mi hai detto. Eh, perché non è. Ciao, come va? Sei un bravo ragazzo, tutto a posto. Eh, si chiama Maria. Lo sai che in questo momento siamo adesso in onda 24, e su 24 c'è in onda la tua replica, lo sai questo? Anzi, volevo dirti questa, la personata è raminata a questa. Quando dici tu che vieni qua anche due giorni, ci prepariamo una puntata come abbiamo fatto, capito? Va bene, va bene, perfetto. Anche senza film, anche senza film. Piuttosto magari ci metto un scherzo telemonico o qualcosa, ok? Bum bum Maria. Bum bum Maria. Ma sempre di lunedì? Ma la faremo quando tu hai disponibilità, quando vieni qua, no? Eh, certo. Beh, allora mi organizzo. Oh, Bum bum, guarda che altrettino ci manchi, cerca di tornare, dai. Eh, fatti vivo. Eh, va bene, dai. Mi ti serve il legrone. Grazie, Bum bum Maria, Radio Web Show di nuovo, prossimamente, anche la puntata. Ti vogliamo qua. Eh, mi mancano anche voi, fate i bravi, e scontate poco che diventate il mio qui. Bravo, bravo, bravo. Ciao, grazie, ti aspettiamo, Bum bum Maria. Ciao, carissimo. Ciao, stavi bene. Ciao, 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 ciao. Ciao, Norris. Vediamo. Lo scherzo telefonico di Radio Web Show.